Il giorno dello sciopero della FIOM CGL che nella zona industriale di San Nicola di Melfi ha chiamato a raccolta i dipendenti che hanno votato no all'accordo per ACM siglato invece da tutti gli altri sindacati del comparto metalmeccanico. Che cosa ti hanno detto in merito a questo mancato pagamento? In realtà è a livello comunale la questione, è proprio una questione di comune, i comuni stanziano un tot di soldi rispetto ai servizi di cui usufruiscono, noi siamo un servizio del comune di Milano e quindi dipendiamo dalle rette. Bastardi sulla gente ritirate, bastardi, bastardo, bastardi! Oggi siamo qui perché siamo indignati come tantissimi giovani padovani per il trattamento che l'assessore Saia ha riservato al Radar Festival e ai suoi organizzatori. Quindi come molti altri il 31 di luglio sono venuto qua preoccupato per quello che sta succedendo e alla fine la cosa bella è che ci siamo seduti, abbiamo ragionato tutti insieme arrivando a un punto comune che è quello che noi... Che viva la lucha della classe obrera! 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 Questa manifestazione davanti ai cangelli della SASOL è per rivendicare il diritto dei lavoratori della mensa della Pellegrini che ha avuto il contratto visitato dalla SASOL e che praticamente a fine mese di agosto saranno niscutati Oggi siamo qua a sborre questo striscione, ebbene negli ultimi giorni che è uscita la notizia, come tutti i presenti sapranno, che nella città di Torino sono 46-46% dei giovani tra i 19 e i 19 anni disoccupati. Ok ragazzi, l'apologità, ti scusate. Grazie a tutti.